Gentili telespettatori, buona giornata. Schlein, o come qualcuno la chiama, Sklein, simpatico, no? No. Va bene. Schlein, il nome corretto, sfida Meloni sul premierato e dice chiaramente che c'è in gioco la democrazia. Davvero c'è in gioco la democrazia? Assolutamente no. Assolutamente no. E' una sciocchezza. Una vera e propria sciocchezza. In gioco la democrazia. Vi devo dire che non è vero. E allora perché la Schlein dice queste cose? Lo dice per ingigantire lo scontro sul premierato e farlo diventare un motivo politico-elettorale, propagandistico. Naturalmente l'elettore un po' più istruito sulla politica, un elettore che segue la politica, non si fa prendere in giro da queste cose. Ma voi sapete che sono di più quelli che non si interessano di politica di quelli che si interessano di politica. Quelli che si interessano di politica sono pochi in Italia. La maggior parte non si interessa di politica. E a quelli che non si interessano di politica, che sono la maggior parte, tu gli puoi raccontare le favole. Gli dici che col premierato c'è in gioco la democrazia e quell'elettore di sinistra, magari, che non segue la politica, però poi vota a sinistra, dice Cos'è che dice la Schlein? Cos'è il capo del PD? No? In gioco la democrazia? Premierato? Ah no, è. Premierato no, è. Democrazia è. È in gioco. Quindi, i politici raccontano balle perché sanno che la maggioranza del proprio elettorato, insomma, non è quello che si interessa di politica. Non è quello che sa cosa succede sul premierato, sull'autonomia. Diciamo che l'elettore medio sulla politica è abbastanza sul superficiale andante. Pertanto, se la Schlein dice che c'è in gioco la democrazia, gran parte del suo elettorato ci crede. Ci crede perché non si interessa poco di politica e dice, beh, se lo dice il capo politico vuol dire che è vero, mica può dire una balla. E invece è una vera e propria balla spaziale. Meloni si dimostra dialogante perché teme di fare la fine di Renzi nel caso la riforma venisse affossata. Mentre la Schlein vuole fare di questo premierato e autonomia un referendum antidestra. Qual è il punto? Per questi referendum non c'è un quorum. Quelli che andranno a votare questi referendum sul premierato e l'autonomia, perché con i voti in Parlamento non si può, quelli che voteranno, voteranno. Non c'è quorum, quindi o passa o non passa. Il punto è questo. Alle elezioni politiche nazionali italiane vanno poche persone a votare. Alle europee andranno ancora meno. A un referendum non va quasi nessuno. I dati di affluenza a un referendum sono spettrali. E allora il problema per il centrodestra è questo. Se c'è un referendum che si trasforma in un voto antidestra, antimeloni, quelli di sinistra in massa si organizzano e vanno a votare. Quelli di destra stanno a casa a guardare la televisione. Questo è successo, per esempio, con le elezioni a Roma del Comune. La destra a casa a guardare la televisione, tutti quelli di sinistra si sono alzati, sono andati a votare e hanno eletto Gualtieri. E Azione ha preso il 21%, proprio perché gli elettori di centrodestra non sono andati a votare. Quello che è successo anche in Emilia Romagna, quando ha vinto Bonaccini, che era diventato un referendum su Salvini e Bonaccini. Quelli di sinistra sono andati a prendere i propri elettori, anche quelli che non potevano scendere le scale, quelli che avevano dei problemi motori. Sono andati a prenderli, li hanno portati in spalla fino agli seggi. Sono andati con i pulmini dei sindacati a prendere tutti quelli che dovevano votare per far perdere Salvini in Emilia Romagna. E riuscirono anche lì a spuntarla. Quindi il vero problema per la destra e i referendum è questo. Che a sinistra si prendono l'impegno di andare a votare per far crollare il governo. A destra rimangono a casa e non vanno a votare. Dicono, vabbè, ci andrà qualcun altro al mio posto, non è il mio voto che cambia le cose. Quando decine, centinaia di migliaia pensano e dicono la stessa cosa, poi nessuno va a votare. E così nello scontro a distanza sul premierato, tra Meloni e Schlein, le due leader hanno dato strategie comunicative opposte. Quella della segretaria del PD è una metaforica chiamata le armi. Vi chiedo di bloccare le riforme con le voci e con i corpi. E la Meloni dice con i corpi. Ma che è una minaccia? Che è una minaccia? Che me stai a minacciare? Dice proprio così. Nel comizio della Meloni dice siamo entrati in punta di piedi per questo, bla bla bla. Dice ma c'è qualcuno che pensa e dice di fermare il premierato con i corpi. La Meloni poi aggiunge non ho capito se è una minaccia. Cioè se me voglio menà, non so che cos'è, cosa vuol dire ci opporremo con i corpi. Ma cosa vuol dire questa roba qua? In effetti suona un po' strano. Ci opporremo a questa riforma con i corpi. Dice ci opporremo in Parlamento, ci opporremo con le manifestazioni. La Schlein avrebbe dovuto dire facciamo tutto quello che è democraticamente possibile per impedire questa cosa qua. Poi ovviamente dice se passa poi noi andiamo al governo, rifacciamo di nuovo tutto per cancellarlo. Quindi non è che fatta una legge poi non si può più cambiare. Può arrivare un altro governo e smontarla tutta. Un po' come i decreti sicurezza di Salvini. Decreti sicurezza di Salvini fatti con Conte, poi arriva la sinistra e li smonta pezzo per pezzo e li cancella. Pertanto una legge si può fare e poi si può anche cambiare o cancellare. Pertanto la Meloni quando sente fermeremo il premierato con i corpi, la Meloni dice ma che è una minaccia? Ma che è sta roba? In effetti che è una minaccia? Fermeremo con i corpi. Cos'è? Corpi contundenti, corpi estranei, corpi celesti, corpi luminosi. Che cos'è? Una storia di alieni? E così si strumentalizza tutto, si sciacalla tutto, si prende qualsiasi sciocchezza e finisce a torte in faccia. Tutto viene ideologicamente incasellato a destra e a sinistra. Il ponte è di destra, il no al ponte è di sinistra, il salario minimo è di sinistra, il no al salario minimo è di destra. Sono tutte sciocchezze, il salario minimo non è di sinistra e il ponte non è di destra, il ponte è di tutti. Il ponte non è che se sei di sinistra devi per forza dire che fa schifo il ponte, però succede così. Voi conoscete qualcuno di sinistra che è d'accordo col ponte? Ma non è vero che quello che voi conoscete di sinistra è contro il ponte. Lo dice perché fa il tifoso della sua parte politica che cerca di contrastare la destra dicendo semplicemente no a tutto quello che propone. Numero uno diceva quello là. Arrivederci e grazie.